perché sta arrivando una marea di gente eh Tandro! Tandro! sta arrivando una... almeno che andiamo Leoni e voi Leoni e voi sono quelli che... è il top eh numero uno dobbiamo sempre salire a monte dopo una certa età Sì sì non ce n'è perché sennò sei rovinato sono sempre l'ultimo ti aspetta andiamo! Diggilo al Vito che è meglio che lui ti dice sempre di sì buona è la cosa migliore mi piace ho già posato un paio di volte ascolta già due già buona ciao Nico ciao Buongiro io aspetto di aprirare di qua risparmio la benzina per il Zocita ciao Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.